Benvenuti a Lattilio Ferraris, è tutto pronto per l'inizio di Villanova a Fiumicino. Amici del grande calcio direttante, buongiorno da Andrea Dirix e Gianluca Di Bella. La squadra di Cristiano Di Loreto cerca la terza vittoria consecutiva per tentare l'assalto ai piani alti della classifica, ma deve fare i conti con la voglia di risalire la china del Fiumicino. Per Barbetti, Barbetti prova a puntare l'aria, Barbetti prova col destro a giro, un grande Lauri. Flore risca nel disimpegno, attenzione una crambola, buona per Meloni. Occhio al destro dell'ex centropista del Rieti, movimento sul secondo palo, pallone che spiove proprio lì, colpo di testa, di sapore di testa, col pallone direttamente tra le braccia di Mandolini. Tutto il Fiumicino rinchiuso nei propri 16 metri, va Bartoli, pallone che spiove, sul secondo palo, colpo di testa di Meloni, che trova la respinta da parte di Mandolini, ancora Mandolini, stavolta a vuoto, attenzione. Rinvio, anche in questa circostanza un po' tenero, recupera il pallone Villanova, attenzione a De Gasperis, De Gasperis dentro per l'infilata per Meloni, 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 Meloni! Col sinistro sul fondo, si è rivolato il gol del vantaggio Giordano Meloni. Tra Villanova e Fiumicino, qui attenzione De Gasperis con Rambaldi che va a vuoto, De Gasperis punta l'aria, De Gasperis, ancora De Gasperis, col pallone che accarezza il palo e termina sul fondo. La sponda all'inizio di Barbetti, ancora Marconi che riceve, ancora Barbetti, attenzione quasi Zonatino, rientra sul Mancino, poi una carambola, Palaia, rete, 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 il Fiumicino è in vantaggio, 30 secondi dopo essere entrato in campo, Palaia trova subito la via del gol e porta in vantaggio la formazione di Ivano Bellei. Sulla corsa di sinistra sta salendo come una freccia Neroni, servito invece Meloni, 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 ancora Meloni! Contrastato, non è finita, Poggio l'indietro e c'è la rete del pareggio del Villanova con Di Corpo che era stato assente per lunghi tratti del match e ha trovato il modo di timbrare il cartellino anche oggi, è la terza rete consecutiva. Parte Bartoli, attenzione al numero 4 del Villanova, prova a calciare dai 30 metri, Mandolini si allunga, Rodi va in verticale, attenzione al taglio di Pico, Pico ancora, Pico, col pallone che sfiora il palo, ha dato vicinissimo al gol, appena 30 secondi dopo l'ingresso in campo, Pico. Bartoli vuole uno contro uno con Rambaldi, ripropone nel mucchio, splendido pallone col Mancino, ha provato la sponda testa, non è finita, Meloni prova, pallone sul fondo, vicino al gol del vantaggio il Villanova. E arriva il triplice fischio, finisce 1-1 all'Attilio Ferraris, tra Villanova e Fiumicino sostanzialmente giusto. Nella seconda parte del match aveva fatto sicuramente qualcosa in più il Villanova, ma portarsi per primo in vantaggio era stato il Fiumicino con Palaia, di lì a breve è arrivato il gol del pareggio del solito Jonathan Di Corpo.